Una stagione povera per l'ulivo Peligno che risulta essere poco ma eccellente. Questo segnala la Confagricoltori precisando che l'extravergine del centro Abruzzo è qualitativamente ottimo. Ad avvalorare la tesi anche il costo. L'olio appena prodotto va dai 12 ai 15 euro al litro. A dettare le regole è sempre il mercato, soprattutto quando la resa sui quintali è molto bassa. L'annata è praticamente un po' scarsa perché c'è stata una grandissima siccità, prima la gelata e poi la siccità, quindi l'annata è scarsa come resa e come quantitativo. Ma dopo l'incendio che l'estate scorsa ha aggredito la zona pedemontana del Monte Morrone sembra esserci molto scetticismo intorno all'acquisto dell'olio proveniente da quelle zone. Siamo sicuri che quell'olio non sia inquinato? Queste le domande dei tanti acquirenti che da anni acquistano l'extravergine prodotto nell'area pedemontana. Da Confagricoltura avvertono niente paura, le piante sembrano non aver accusato il colpo e con esse anche il raccolto. Per quanto riguarda l'olio sicuramente non c'è assolutamente niente perché subito dopo l'incendio ha piovuto già un paio di volte e quindi comunque se ci stava fuliggio, ci sta qualcosa legato, si è dilavato. L'unico problema è che ci sono state comunque delle piante bruciate, sulle piante bruciate l'oliva è bruciata, quindi non si è potuto procedere alla raccolta. Sono rimaste là. Questo è un danno che dovremo vedere chi risponde e quando risponderanno. Per quanto riguarda l'olio, l'olio che ci sta è di eccellente qualità perché comunque con la siccità senza mosca e senza nulla, l'olio è praticamente quest'anno una qualità ottima. Intanto si torna a parlare di calamità naturale, ma al momento nulla di fatto. Sembrerebbe che la stessa potrebbe essere concessa dal Ministero soltanto se passerà in Piemonte, dopo gli incendi di due settimane fa. Un'assurdità considerando i danni della Valle Peligna. Mille piante d'olivo completamente bruciate assieme alla montagna. Ma il problema fondamentale adesso pare essere una mancata perimentazione dei terreni montani distrutti dalle fiamme. Nel comune di Sulmona e nell'Uta, Ufficio Territoriale per l'Agricoltura, hanno provveduto a rilevare effettivamente il danno e così in caso di risarcimento sarà un vero problema. Che dire, non solo il danno ma anche la beffa.